È arrivato il momento di un altro ospite. Allora, come dicevamo prima, il cuore di una serie come i Simpsons, insomma di una serie animata, sta nel doppiaggio, però se avete letto sui giornali, su internet, sapete che proprio riguardo al doppiaggio dei Simpsons c'è stato una... Qualche problemino. Qualche problemino, diciamo una querelle. Per parlare di questa querelle, per farcela spiegare, abbiamo con noi in linea una dei doppiatrici storiche, o per poter dire ex doppiatrici storiche dei Simpsons, con lei che dava la voce proprio a Bart Simpson, ossia Ilaria Stagni. Buonasera signora Stagni. Buonasera a tutti, ciao a tutti, non vi faccio Bart perché sono in sciopero, come appena avete detto. Esatto. Non gliel'avremmo chiesto. Un po' di curiosità ce l'avremmo chiesto, ma ovviamente non insisto. No, esatto. Allora, partiamo subito, andiamo subito nel vivo. Cosa è successo? Allora, io non so ancora se sono ex, perché in realtà non ho saputo più niente e questa è una cosa che vi dà lo specchio di quella che è la situazione. Allora, la situazione è questa, che praticamente dopo 25 anni di Simpson, o forse 24, ci è arrivata una lettera dicendo «Visto che noi siamo in crisi, Mediaset deve tagliare, per cui vi volevamo proporre il 70% di sconto del vostro cachet». Non è pochissimo. 70%, no. Dopo 25 anni. Cioè, non è che poi la serie è stata, voglio dire, sei stato cattivo, sei stato pessimo. No, anzi, abbiamo contribuito, credo. Anzi, neanche poco. Sì, ma poi ci siamo sempre resi disponibili appunto a fare interviste, senza ovviamente pretendere nulla, insomma. Per cui ci è arrivata un attimo come una richiesta a cielo a sangue sedo, insomma. Ovviamente. E i compensi che noi prendevamo per fare i Simpson erano sì maggiorati, ma di poco rispetto al contratto nazionale, che vuol dire che è quello che ti devono dare per legge. Certo. Perché noi abbiamo firmato un contratto nel 98 e ancora quello, per cui le tariffe sono ancora quelle, per cui noi negli anni, piano piano, abbiamo ottenuto una sorta di maggiorazione, che però non è sicuramente, ma proprio lontano all'inuce, i compensi dei nostri colleghi d'Ostroceno, che sono addirittura di 8 milioni di dollari a stagione. Sì, infatti io poi... O loro sono più fortunati di noi. Tra l'altro anche loro hanno avuto questo problema, questa richiesta di tagli, lì si è arrivati a una trattativa per cui più o meno si sono venuti incontro. Sì, col 30%, ma anch'io forse avrei accettato prendendo 8 milioni di dollari. Col 30% in meno, sì. Sì, penso di sì. Comunque, insomma, a prescindere che... Ok, è chiaro che il bacino italiano è molto più piccolo e che quello inglese, americano, comunque copre di più. Però, e che le tariffe obiettivamente sono diverse, insomma, in America e in Italia. Però noi, credo che, insomma, da tante lettere che sono arrivate, mail, tra l'altro io ringrazio tutti perché veramente sono stati... Sono ancora solidali, stanno facendo petizioni, stanno scrivendo, balangate di mail, credo che siano arrivate a Megaset e Fox. Sì. Per cui di questo sono felice, devo dire la verità. E un'altra cosa è successa, che in realtà non succede quasi mai. molte, ma moltissime, delle mie colleghe si sono risciutate di andare a fare il provino per Bart Simpson. E questa quella, infatti, gliel'avrei chiesto dopo, questo è un bel gesto. Tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori che, oltre a lei, anche la signora Liubo Sisio, che è doppia Marge Simpson, ha rifiutato questo taglio del compenso. Le mie voci, comunque, molto caratterizzanti dei personaggi, quindi non sarà facile. Soprattutto per i protagonisti, cioè per i cinque della famiglia, cambiare una voce significa cambiare proprio il rapporto del personaggio col pubblico. Ma poi dopo 25 anni, voglio dire, il pubblico ci ha sezionato, noi anche. Cioè, voglio dire, è diventato, sta proprio nel mio DNA, cioè io so esattamente, anche perché, tra l'altro, in americano è Nancy Cartwright, che è proprio Bart Simpson. E le nostre voci sono identiche, è una cosa impressionante. Io ogni tanto vedo le repliche su Fox e posso affermarlo, è impressionante. Il passaggio tra l'americano e l'italiano è praticamente... Ma è stato fatto un grande, un grosso lavoro all'epoca, anche perché, appunto, ha scelto Matt Groenig. Sì. Io credo che non sappia assolutamente nulla di tutta questa storia, tra l'altro. Verebbe dirglielo allora. Tu, Francesca, che hai il telefono, no? No, invece c'è una domanda che riguarda un po', diciamo, il passato, l'esperienza, come è stato, invece? Cioè, lasciando il finale, che è tragico, diciamo, dell'esperienza cognitiva. No, il finale, poi, tra l'altro, non si sa nulla, nel senso che non si rispondono. La cosa amarissima è che Tonina Colla, che fa Homer, sta facendo i proveni per sostituirci, insomma. Cioè, questa è una cosa veramente ignobile. L'ultima notizia che so è che c'erano dei imitatori di Zelig, che stavano provando. Ok, bene. Allora, superata l'amarezza per questa informazione. Peraltro, dopo parleremo del declino qualitativo presunto della serie, e se ci mettiamo anche queste notizie, in effetti. Ci viene un po' di tristezza. Appena un po'. Volevo sapere un po', dal suo punto di vista, com'è stata questa esperienza con i Simpson, le problematiche proprio al livello del linguaggio, dello studio che c'è stato, e proprio come ne sono stati questi 25 anni. No, bellissimi. Cioè, io mi sono affezionata a Bart quasi subito, nel senso che all'inizio, poi se ben vi ricordate, i disegni erano molto diversi all'inizio. Molto bellissimi. Appena l'ho visto, ho detto, ammazzia quanto è brutto questo sorcio giallo, beh. E invece poi, capendo poi l'ironia graffiante della serie, intelligentissima, piena di idee, di cose, eccezionale. Tra l'altro censurata, anche qui, in America 7, in Italia, perché in americano è molto più forte, e mi sono innamorata immediatamente di Bart. E devo dire che è stata una simbiosi, praticamente, per cui ogni anno, quando c'era la stagione da fare, io mi diretevo una pazza, tutti noi, più o meno, più o meno. Con Tonino ci sono sempre stati rapporti molto difficili, per cui non ci siamo mai beccati, insomma, in sala. Entravo e usciva lui, è il contrario, insomma. E per cui, anche per questo, poi potete capire, perché, insomma, non è stato solidale con noi fino alla fine, che invece forse era la cosa che dovevamo fare tutti, no? Ma, una parentesi, questi rapporti tesi ce l'hanno solo con lei o in generale un po' un clima? No, no, un po' con tutti. Tonino ce l'ha un po' con tutti. Ah, ok. Carattere, sarà carattere. Probabilmente. E questo paragono un po' a Maradona, perché è tanto talento, ma ha un carattere pessimo. Genio e slegolatezza, come si suol dire in questi casi. Sì, però neanche troppo facinosa, come cosa. Sì, ok, ho capito. Guardando al pinto, ah, scusi. E comunque, no, no, finendo di dirvi, che vi posso dire, tante soddisfazioni, tante... Certo. Ma soprattutto dalla gente, perché devo dire che, appunto, noi, veramente, forse neanche un confanetto di DVD con la nostra voce, che tra l'altro non ci riconoscono neanche i diritti, ci è mai arrivato. Cioè, io non ho mai ricevuto nulla. Un fan mi ha regalato una spilletta di bar tenuto che è ancora sotto, per dire, insomma, ecco. Per cui il rapporto era molto più con, appunto, con le persone che li amano e infatti spesso e volentieri facevamo entrare, almeno io, insomma, Liu e anche altre, anche Monica, facevamo entrare in sala persone per vedere, per assistere, non abbiamo mai detto di no, siamo stati sempre molto disponibili. Certo. Dovamo rileggere la sua esperienza. Quanto crede che i Simpson abbiano contribuito al suo successo personale e quanto lei, invece, ha contribuito a quello che poi è stato il successo dei Simpson? E questo io non lo posso dire, non lo so. No, nel senso che comunque io la mia carriera di doppiatrice, a parte Barth, voglio dire, ho dei nomini niente male, da Scarlett Johansson a Winona Ryder, a Mirace Ervin, insomma. Insomma, niente male, niente male. Niente male. Niente male. Niente male, per cui comunque sarebbe andata bene, diciamo. Però Barth ha soddisfatto tutta la parte burlona, infantile, che poi sono io, insomma, io sono molto pestifera. Allora la domanda sorge spontanea, proprio così immediata. Se la situazione non si risistemerà, quanto ti mancherà Barth? Mi mancherà. Mi mancherà. Io credo che non si possa fare neanche un paragone, cioè nel senso che io preferirei vederli in originale con i sottotitoli. Certo. Perché secondo me, ma non perché ho fiducia nel chi mi sostituirà, se mi sostituirà qualcuno, ma perché una voce legata a un personaggio per 25 anni, grazie a Dio non sono morta, per cui insomma non è una questione di sostituzione per forza, voglio dire, è una cosa brutta, ma è una cosa brutta da digerire. Sia per me, ma soprattutto per tutti quanti quelli che amano i Simpsons, perché è una cosa diversa. Quel Barth l'ho studiato, l'ho creato, certo gli sono andato indietro, però c'è tanto di me in quel Barth, che ho appunto presentato al pubblico per 25 anni. La persona che mi sostituirà, non so, magari essendo un affezionato dei Simpsons o affezionata, non so veramente, non so che dirvi. Riuscirà anche a fare un buon lavoro, però io insomma non vorrei essere nei suoi panni, ecco. È una bella eredità. È un'eredità fortissima. Grazie mille signora Stagni, è stato un piacere poter parlare con lei. Mi saluto. Sperando che poi questa situazione... Mi saluto e vi ringrazio per il supporto. Speriamo di risentirla in Barth. Speriamo sì che questa situazione in qualche modo si sblocchi. Va bene. Ciao. Grazie signora Stagni, buonasera. Buonasera. Ciao, ciao. Ciao.